Buongiorno anche a voi e ben ritrovate carissime telespettatrici e carissimi telespettatori anche questa mattina sabato 2 marzo 2024 primo sabato del mese di questo mese che ci accompagnerà verso l'arrivo della primavera e leggiamo insieme come sempre le principali notizie dei due quotidiani regionali il Carlino e il Corriere Adriatico. Partiamo però dando un'occhiata alla webcam che è posizionata questa mattina grazie all'intervento del nostro regista Andrea Sabatini sul rifugio Corsini del Monte Nerone circondato ancora da nuvole che promettono tempo instabile come andiamo a vedere dalla scheda del meteo dell'aeronautica militare tempo non certo mite favorevole diciamo mite sì perché le temperature come vedete variano dai 10 gradi attuali per arrivare a metà giornata intorno ai 15 però sono previste precipitazioni. Diamo un'occhiata anche al meteo regionale la nostra provincia è costellata da nubi e pioggia tempo variabile invece sulla costa meridionale della regione e nell'entroterra maceratese fermano ed ascolano. Veniamo alla lettura della homepage del resto del Carlino un titolo dedicato alla donna deceduta ieri a scusate giovedì giovedì per la precisione a mercatino conca sbranata dal suo cane un'agonia di pochi minuti poi andremo a raccontare nel dettaglio cosa è successo morta per shock emorragico adesso il destino del cane è appeso ad un filo. La polemica sulla discarica di riceci è interminabile parla il sindaco Ricci non sapevamo di riceci questo il titolo ovviamente poi approfondiremo all'interno replica il sindaco di Urbino Gambini riconvocando con urgenza tutti i soci di Marche Multiservizi. La foto copertina è dedicata e vedremo è la stessa lo stesso argomento verrà poi dedicato dal Corriere Adriatico ieri sera alle 21 all'auditorio Moscavolini è stata conferita la cittadinanza onoraria a Pecco Bagnaia il bicampione del mondo di MotoGP Orgoglio Pesarese questa è casa mia bellissima questa fotografia che ritrae il campione torinese insieme al sindaco Ricci e a Marco Perugini che consegnano appunto la cittadinanza onoraria. Cronaca giudiziaria rievoca la violenza e piange in aula interrogatorio shock si tratta della 22enne bergamasca che nel 2022 era stata appunto assalita all'esterno del Baia Imperiale nell'estate di un paio di anni fa mentre a Cagli un quarantenne è stato arrestato dopo avere minacciato ripetutamente la moglie con un fucile carico a pallettoni. Notizia di sport la vispesaro 16.30 al Benelli arriva il Ponte d'Era la disfida delle belle sono due squadre che praticano e giocano un bel calcio mentre Fermignano si unirà per dare l'addio a Marcello il camionista deceduto sulla tangenziale di Bologna oggi alle ore 15 in Duomo. Passiamo al Corriere Adriatico come vedete la foto di copertina è identica a quella del resto del Carlino tutta dedicata a Pecco Bagnai è diventato un cittadino benemerito della nostra Pesaro e il titolo con il focus di Letizia Francesconi è dedicato all'auditorium scavolini o palace o hangar come continuiamo vogliamo continuarlo a definire svolta per il turismo giustamente albergatori e tour operator ripongono grandi aspettative nella programmazione del locale piace la struttura soprattutto per espitare convention e incontri legati al business e al turismo aggiungo io aggiungo io nei tre box sotto la copertina di nuovo la polemica su riceci ricci smentisce l'amministratore delegato tv roli il comune non sapeva di riceci inaugurazione oggi affano della nuova piscina bella e tecnologica e anche qui il fatto di mercatino conca sbranata dal cane il marito già morta quando sono arrivato e poi la task force per mappare e bonificare l'amianto ieri riunita in prefettura adesso andremo a vedere nel dettaglio cosa sia successo partiamo dal palace sì l'auditorium è bello ma adesso coinvolgeteci nel calendario di eventi questo l'appello di albergatori e tour operator per l'utilizzo e le potenzialità che può esprimere questo nuovo contenitore e albergatori e operatori turistici chiedono al comune di essere coinvolti nella programmazione veda la convergenza il calendario di eventi e il convolgimento di tutti gli attori che gravitano intorno all'indotto turistico ci sono quattro foto c'è anche la mia e come vedete letizia francesconi ha intervistato paolo costantini il presidente del dell'apa dell'associazione pesarese albergatori chiediamo all'amministrazione una concertazione con tutti gli attori del turismo perché l'auditorium sia un contenitore polivalente nel cuore della città e sia il fulcro della destagionalizzazione interviene anche fabrizio oliva del baia flaminia hotel ideale per convention e business da inserire subito nei pacchetti promozionali e si chiede anche dice giustamente oliva che l'offerta economica non venga rincarata magari per recuperare il surplus di costi di realizzazione triplicati negli ultimi anni interviene anche vincenzo ricci della via rose un gioiello con ampi spazi di acustica eccellente impianti audio video moderni larghi corridoi che non sia però solo la casa del roff con la mia agenzia insieme agli operatori del consorzio discover pesaro presenteremo le nostre proposte di eventi all'amministrazione e poi cito me stesso le potenzialità sono enormi e ho rilasciato questa intervista ieri il locale è strutturalmente funzionale bello da vedere il mio appello è quello di non darlo ma l'avevo già detto giovedì durante insieme a canestro non darlo in concessione a uso di società sportive della nostra zona perché rischia di bloccare poi il palinsesto dell'incoming sportivo e culturale per intenderci no ad allenamenti e partite settimanali di squadre locali o l'utilizzo società sportive pesaresi per la loro gestione diciamo quotidiana mancano comunque da completare ancora i locali al piano terra per intenderci quelli lungo viale marconi diciamo che l'edificio è stato migliorato sismacchiamente migliorato anche dal punto di vista energetico ha già ottenuto un contributo statale di 700 mila euro per la copertura fotovoltaica del tetto sono stati rifatte le finiture i pavimenti rivestimenti le pitture il riscaldamento il raffrescamento e manca da completare appunto la riqualificazione dei locali commerciali posti al piano terra per ospitare la nuova farmacia comunale e il la cop di villa fastigi e ieri sera è andato in scena il secondo evento quindi due serate consecutive di opening di apertura del auditorium scavolini ieri è stata la giornata la serata di pecco bagnaia cittadino ormai pesarese benemerito lo ricordiamo era arrivato giovanissimo alla scuderia della cama dei miei vr 46 di valentino rossi amo pesaro i pesaresi questa città ha tutto non cambierei nulla mi ha accolto subito quindi alle 21 inaugura dopo l'inaugurazione dell'altro ieri doppia standing ovation prima walter scavolini lo abbiamo ricordato nella nella rassegna stampa di ieri poi con la diretta che abbiamo mandato in onda e ho e appunto ieri pecco bagnaia in platea anche la moglie che vediamo ritratta la moglie la futura moglie scusatemi le no dicono di convolare a nozze a luglio quindi il resto del carlino poi dedica una pagina a questa vicenda amorosa tra domizia e pecco quindi chi volesse approfondire poi acquistando il quotidiano nelle edicole potrà scoprire tutta la verità relativa a questa liaison e dicevo che la cittadinanza il giusto riconoscimento ad un campione che ha scelto di vivere a pesaro è un modo per rafforzare ulteriormente la nostra strategia di comunicazione e turistica della città questo il pensiero di matteo ricci veniamo alla notizia sull'amianto l'avevo detto in apertura leggendo la prima pagina uniti per mappe e bonifiche in prefettura il fronte degli enti al lavoro contro l'amianto fronte unico in prefettura è ora di agire la bappatura dei siti contaminati è incompleta le bonifiche vanno molto a rilento questo il pensiero della presidente elisabetta sacchi dell'osservatorio di pesaro contro l'amianto o p a è l'acronimo finalmente è stata ricevuta dalla prefetta una mediazione che ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte un vertice organizzato il 21 febbraio alla quale hanno partecipato anche l'assessore regionale all'ambiente stefano guzzi il presidente della provincia giuseppe paolini e maria rosa conti assessore alla sostenibilità un incontro che è servito per mettere a fuoco le competenze di ciascuno su argomenti conosciuti ma le cui scelte finora non avevano imbaccato la strada dell'azione coordinata e oggi c'è un convegno a proposito di transazione ecologica alle 10 nella sala rossa del comune europa verde organizza su transizione ecologica un'opportunità per l'economia veniamo alla vicenda di giovedì sera spra e malori rischio multa per chi ha spruzzato al centro commerciale miralfiore è stato identificato l'autore e praticamente ha trovato questa bomboletta di spray al peperoncino ha cominciato a spruzzarla alcuni avventori hanno iniziato a sentire bruciori agli occhi al naso poi gonfiori alla gola e tosse l'uomo ha trovato dice dice di avere trovato questa bomboletta nel bagno che ostacolava il suo carrello non capiva cosa fosse ha provato ad utilizzarla e le conseguenze sono quelle che abbiamo descritto e scattata così la contravvenzione per getto pericoloso di cose è procedibile di ufficio ma la notizia del giorno riguarda anche la questione riceci ricci smentisce tv roli né io né il comune sapevamo andiamo a affrontare questo tema molto interessante davanti alla commissione parlamentare di inchiesta dei sui rifiuti mauro tv roli l'amministratore delegato di marche multi servizi aveva tenuto a precisare che non ci sono problemi di governance a marche multi servizi neanche sul progetto di riceci che era noto ai soci ed è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione due giorni dopo le reazioni alla sua audizione dimostrano esattamente il contrario ricci lo contraddice su un passaggio chiave della sua relazione e gambini mette in discussione il ruolo del presidente dell'azienda andrea pierotti ricci ha risposto all'attacco dell'opposizione in particolare quello di giulia marchionni che gli attribuivano responsabilità politiche nella vicenda ribadendo che né lui né il comune erano a conoscenza del progetto mentre gambini ha chiesto una convocazione urgente dell'assemblea dei soci per un confronto diretto in merito all'orientamento della società rispetto al progetto di realizzazione della discarica sindaco e comune di pesano non erano al corrente di riceci frutto di un'iniziativa di tv roli dice ricci il quale aggiunge che petriano e urbino hanno cambiato idea ha ricordato lo scontro molto duro avuto all'interno di mms con i soci che difendevano il progetto di riceci e ho proposto un piano b perché sono sicuro che la discarica non si questo il ricci pensiero gambini invece dice che quali sono chiede quali sono le responsabilità conferite all'amministratore delegato di firmare un contratto vincolante per il l'acquisizione totale di aurora e ha messo per iscritto che si dovrebbe pensare che il presidente abbia agito in completa autonomia senza informare senza condividere con il sindaco di pesaro adesso giovedì 14 marzo alle 10 il dirigente della provincia andrea pacchiarotti ha convocato una conferenza dei servizi su riceci sarà l'occasione per una preliminare contestuale valutazione della documentazione prodotta dalla società aurora per illustrare i principali elementi ostativi e profili di criticità correlati alla realizzazione dell'impianto a urbino sit in dei comitati al mit forum sul turismo sostenibile i comitati di urbino e petriano hanno organizzato un sit in per sottolineare come non si può parlare di turismo sostenibile mentre si sta appoggiando il progetto di una discarica gli agricoltori sono di nuovo in marcia ma questa volta a piedi e fino in piazza il corteo partirà in mattinata dalle 5 torri per raggiungere il centro pochi trattori e solo simbolici quindi l'appuntamento alle 8 e 30 nel parcheggio di via volontari del sangue in zona 5 torri e poi tutti a piedi verso piazza del popolo entrando da via branca e distribuendo volantini sui motivi della protesta dei trattori signori non torno perché ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane intanto francesco totaro lascia il gruppo della lega lascia il partito ma non la politica si definisce deluso dall'approccio con il quale il partito di matteo salvini sta cambiando la propria politica lui entrò nel 2018 attratto da un partito presente nei territori attento ai temi come la sicurezza la tutela di imprenditori artigiani l'immigrazione la tassazione invece ora è un partito delle lobby dei salotti del ponte sullo stretto e totaro dice di non abbandonare la politica ma di dare adesione a una lista civica che appoggerà il candidato di centrodestra marco lanzi e oggi arriva pesaro patrick zachi il giornalista scusate l'attivista attivista egiziano che studiava fa il ricercatore all'università di bologna questa mattina ospite dei ragazzi del liceo marconi per raccontare la sua esperienza di libertà negata mentre alle 17 e 30 palazzo ciacchi presenterà il suo libro sogni e illusioni di libertà e vicino a zacchi questo pomeriggio a casa rossini alle 18 e 30 invece la seconda tappa della playlist rossini per ripercorrere l'intero repertorio operistico del cigno questa sera la cambiale di matrimonio restiamo in ambito politico intervengono i cinque stelle parla la capogruppo marta ruggeri terzo candidato e primaria i cinque stelle non cambiano idea praticamente appoggiano le candidature di vimini e biancani nessuno le ha mai messe in discussione però ribadiamo il concetto che appoggeremo un candidato in maniera convinta e leale in quanto invochiamo pari dignità nella scelta della figura che dovrà guidare la coalizione il terzo nome emerso invece non soddisfa i cinque stelle e questo è giusto che lo sappiano sia i decisori politici del pd sia i cittadini contrari comunque anche i cinque stelle alle primarie veniamo alla cronaca di urbino è stato firmato il bilancio il patto del bilancio sociale aiuti contro povertà e disagio la giunta comunale sigla di intesa con cgl cis per il sostegno ai soggetti deboli sindacati hanno chiesto di non aumentare le tariffe e calibrare gli interventi con l'isee urbino deve guidare la transizione eco digital è arrivato nella città feltresca alfonso pecoraro scanio lo ricordate lo ricordiamo segretario dei verdi almeno una quindicina di anni fa forse anche di più ora è presidente della fondazione univerde promotore della rete eco digital la città ducale deve diventare il centro di attrazione internazionale di chi vuole lavorare a distanza grazie alle potenzialità dello smart working e vivere in un luogo straordinario circondato da bellezze naturali e artistiche l'impegno è stato raccolto dal candidato sindaco per il centro sinistra federico scaramucci che condivide a pieno questi obiettivi cronaca di fano oggi inaugurazione della della piscina primo tuffo alle 10 si tratta appunto di un impianto di quello di via mattei ovviamente scusate non l'avevo sottolineato bello da vedere bello anche da nuotarci riprende il claim del carnevale di fano il sindaco massimo seri accesso a 8 euro e 50 giornaliero mentre l'abbonamento è da 77 euro al mese sulla modernità della struttura è chiarissimo il direttore berlese abbiamo tecnologie che ci consentono di monitorare da remoto non è facile partire a metà stagione ma implementeremo piano piano le diverse attività e in estate saremo candidabili ad ospetare caollegiali di club del nord europa a fano rimaniamo per quanto riguarda i capannoni della carnevalesca ne avevamo parlato tantissime volte adesso la situazione sembra diventata insostenibile il degrado è insostenibile dice la presidente dell'ente carnevalesca maria flora e gian marioli l'ultimo episodio il crollo del cancello d'ingresso un pesante appunto struttura che cadendo nel prato sottostante per puro caso non ha coinvolto alcune persone altrimenti sarebbero stati veramente danni di non poco conto alla al crollo del cancello si aggiunge anche le solite infiltrazioni d'acqua basta che piova qualche millimetro e il pavimento è bagnato infiltrazioni che hanno arrugginito indebolito i sostegni delle porte scorrevoli le coperture del soffitto con pericoli di crolli è stato riferito tutto al comune decine di volte tutto tace dice la gian marioli sono venuti i tecnici hanno preso atto ma non è stato fatto nulla se continuiamo così è dura organizzare eventi per il prossimo carnevale a proposito di eventi comincia circo maria mostre d'arte incontri presentazioni di libri concerti spettacoli laboratori rivolti a bambini e ragazze installazioni artistiche dal 5 al 10 marzo nell'ambito del festival dell'economia circolare circonomia adottato dall'assessore cora fattori che vediamo nella fotografia 34 eventi 100 relatori tra giornalisti esperti di ambiente rappresentanti di associazioni e di imprese e membri delle istituzioni poi qui c'è tutto l'elenco degli ospiti che vi invito ad andare a leggere se siete interessati chiudiamo il Corriere Adriatico con la notizia che arriva da Cagli il quarantenne che minaccia la moglie con il fucile un fucile caricato a pallettoni è vero che era detenuto regolarmente ma le munizioni erano illegali erano diversi mesi che la donna veniva minacciata sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il faccino rosso e lo hanno costretto al domiciliare con il braccialetto elettronico lasciamo il Corriere Adriatico andiamo sul resto del Carlino ma permettetemi di salutare tutti coloro che ci stanno che stanno intervenendo su facebook questa mattina chiediamo al nostro Andrea Sabatini di farceli vedere Maria Fiori Romina Gauzzi Daniele Malandrino che dice 25 milioni di euro il secondo maggior nazionista non ne sapeva nulla incompetenza questo è il messaggio diretto dal consigliere di Fratelli d'Italia al sindaco Ricci relativamente alla discarica di riceci grazie Gianluca Tacconi Alfredo Generali Francesco Pecco Bagnaia sei il numero uno orgogliosi di te poi sei anche Juventino questo Alfredo Generali Roberta Aureli Francesca Mattacena Danilo Barilari Francisco Paccio Gomez e Daniele Santini non solo Michela Guiducci da Borgo Santa Maria Anna Redaini dalla Celletta Duca Pandolfi questi sono i fedelissimi Fiorella Peri Loredana Pezzolesi New Barcollo Germano Pina e Ornella Simoncini grazie infinite anche questa mattina per esservi il sabato svegliati così presto a farci compagnia Gianna l'avevo detto anticipato andiamo a approfondire questa tragedia di mercatino che ha scosso il paese non solo il paese tutta la provincia il cane le ha reciso la carotide tigre si chiama il pastore dell'asia centrale lo vediamo nella fotografia si accanito su di lei questo il motivo è tutto da accertare come se fosse lei la vera nemica da assalire per difendere la casa e la proprietà Gianna aveva 84 anni Gianna Canova originaria del Veneto aveva lavorato per molti anni come cuoca nelle aziende del marito poi andava in pensione e è morta per uno shock emorragico lacerata da diversi morsi su tutto il tronco le braccia ma fatale è stato il morso che le ha reciso la carotide il cane è un pastore maremmano dell'asia centrale 60 chili quindi un bel bestione 9 anni di età era Gianna che gli dava sempre da mangiare anche se negli ultimi anni era stato molto aggressivo addirittura un vicino racconta che un paio di anni fa era entrato nel giardino e si era salvato salendo sul cofano della macchina perché Tigre lo aveva attaccato certo nomen omen con un nome così qualche vena forse di aggressività si riesce anche a spiegare ora i veterinari devono decidere sul suo destino e al canile di Callucio di Urbino si deciderà se abbatterlo o meno interviene anche il sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna mortificato per non aver agito in tempo in quanto pochi giorni fa un pitbull sempre lì a Montecatino era stato sedato e allontanato perché aveva già ucciso a morsi un altro cane su Bagnaia abbiamo già parlato e vediamo verso le elezioni i tormenti del PD lo sappiamo tutti c'è questo ballottaggio tra virgolette Biancani-Vimini e le prime due settimane di marzo saranno ormai decisive perché i tempi incalzano Giampiero Bellucci segretario cittadino dei DEM ha fatto la sua parte consultazioni che durano da 4 mesi 50 consultazioni che indicano un 50-50 diciamo tra i due candidati adesso scappa fuori questa proposta del comitato dei saggi che dovrebbe includere sia Ricci che Ceriscioli come vediamo nella foto Biancani sa di essere leggermente in vantaggio ma Vimini lo sappiamo bene è il candidato naturale di Matteo Ricci dopo dieci anni di segreteria cittadina e dieci anni da vice sindaco ieri come abbiamo già letto sono intervenuti anche i 5 Stelle che hanno detto il loro chiaro no a Sara Mengucci adesso vedremo nei prossimi giorni come si e quando si arriverà ad una decisione aspetta il destino anche la lista di Enzo Belloni una città in comune è pronta ad un confronto con il candidato chiunque esso sia non mettiamo paletti dice l'assessore all'urbanistica con quale logica potremmo pensare di influenzare le scelte di un altro schieramento siamo al palo e aspettiamo dice non ci permettiamo di mettere alcun paletto cronaca giudiziaria come dicevo in apertura violenza sessuale a Gabbiciemonte la 19enne di Bergamo che venne adescata all'esterno della Baia Imperiale ieri c'è stata l'udienza preliminare drammatica davanti al giudice tre ore di domande intervallate da pianti reflenabili e uscite dall'aula di odienza ieri mattina appunto adesso sappiamo che l'uomo che l'aveva aggredita è libero è stato 20 giorni in carcere poi ai domiciliari ora è completamente libero senza limitazioni l'udienza preliminare riprenderà il 5 luglio e poi l'incredibile vicenda di questa bambina di 7 anni che ha dichiarato di avere ricevuto palpeggiamenti da parte del compagno della nonna un pesarese di 56 anni ovviamente la difesa nega tutto Rossini servito sui piatti studenti chef sfida finale all'alberghiero il prossimo giovedì 5 scuole porteranno il loro menù rossiniano i vincitori 1000 euro per l'istituto proposta di scusate 1000 euro per l'istituto e proposta di stage qualificati per i ragazzi 7.50 un minuto e mezzo un video di risate con il blob di Franco Bertini micidiale anche questo sabato nel vecchio hangar di Viale dei Partigiani a migliaia zompavano sui gradoni di cemento gridando chi non salta bolognese è questo all'hangar l'altro ieri sui seggiolini del nuovo auditorium scavolini recitavano tutti il padre nostro ci deve essere sfuggita qualche modifica del concordato fra stato e chiesa alcune famiglie di studenti pesaresi si sono lamentate per i costi delle settimane bianche dei figli pare che dipenda dagli impianti di risalita con slitte trainate da renne e alci finlandesi la cultura e anche Valtris Cavolini che ricorda suo fratello il vino è patenta alle prese con le porchette della maxi tavolata dell'88 la più grande adunata di popolo pesarese dai tempi delle legioni romane adesso che finalmente è stato scoperto il bell'auditorium scavolini non si potrebbe ricoprire riscoprire quel mostro di ex riformatorio che sta 100 metri più in là è vero in via Luca della Robbia sarà realizzato un tour gastronomico sulle basi delle ricette rossiniane quest'anno della cultura è davvero una fuscina inesauribile di nuove idee è veramente ironico su questa affermazione pare che in molti casi i nuovi cassonetti per i rifiuti siano troppo intelligenti per chi li deve usare uno magari crede di stare solo buttando la mondezza nel bidone e invece scatena una tempesta di intelligenza artificiale grazie Franco per farci ridere ogni sabato in compagnia delle tue freddure oserei così definirle Fano in aeroporto decolla alla scuola di volo molto interessante questa notizia nascono piloti professionisti Eagles Aviation Academy forma gli aspiranti all'affascinante mestiere i nostri allievi scelti da celebri compagnie come vediamo nella foto i ragazzi che intraprenderanno questa bellissima attività chi è passato di qua è stato preso da Ryanair Ita, Air Italia, Air Dolomiti, DHL abbiamo 30 ragazzi con un paio di stranieri tra i quali un argentino e un tedesco sarà una Pasqua senza la guardia medica nella Val Cesano quasi 42 mila persone rimarranno senza assistenza ma tutto marzo per i presidi del territorio sarà piuttosto negativo a Urbino Gambini ha deciso mi ricandido a sindaco il primo cittadino annuncia che da lunedì si confronterà con alleati e partiti confermo la squadra storica con allargamenti e tutta Fermignano come dicevo in apertura si fermerà oggi alle 15 in Duomo per celebrare i funerali di Marcello Falconi il camionista morto a Bologna per un incidente lungo la tangenziale sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine le dinamiche dell'incidente tantissimi messaggi di cordoglio in particolare al Motoclub di cui è stato un grande animatore lasciamo anche il Carlino Pesaro chiudiamo con le notizie di Sport Sport weekend che si apre con la Vispesaro con quindi la Serie C Vispesaro-Ponte Nera in palio punti salvezza sfida tra due squadre votate al Belgioco alle 16.15 quindi per chi volesse andare abbiamo il debutto finalmente dell'ex centrocampista dell'Inter OBI oggi potrebbe essere il giorno del suo esordio al Benelli quindi vi invito appunto a sostenere la nostra squadra alle 16.15 vi ricordo anche la posizione in classifica la Vispesaro 32 punti il Pontedera la precede di 7 ne ha 39 e domani a Fano arriva il Chieti per questa sfida contro l'Alma Juventus che ha cambiato il mister è arrivato appunto Manoni che dopo aver salvato l'anno scorso la San Benedettese prova a fare la stessa impresa con il Fano ha preso anche l'ex attaccante di Serie A dal Chieti quindi scusate il Chieti ha il mister e l'ex attaccante di Serie A Luiso appuntamento appunto domani pomeriggio al Mancini cade invece l'Ital Service a Sala Consilina perdendo terreno verso i play-off 4 a 2 per la squadra di Campana contro appunto il team della Presidente Marinelli Basket domani sera ore 19 torna il campionato torna la Carpegna Prosciutti qui alla Vitrifrigo Arena Meop Sacchetti ieri in conferenza stampa ha espresso il suo pensiero dobbiamo farci perdonare contro Brindis si sono venuti più di 6.500 spettatori abbiamo fatto una figuraccia questo il suo pensiero non deve essere così e speriamo che a cambiare ritmo ne abbiamo parlato giovedì con Elisabetta Ferri e Matteo Fattori a lungo della nuova guardia Justin Wright Foreman l'ultimo rinforzo che debuterà appunto con la canotta bianco-rossa la numero 11 mentre per quanto riguarda il volley domani alle 17 al Palamega Box al padiglione D di Campanara arriva la Itras Trentino nella partita valida per la nona giornata di ritorno della stagione regolare era questa l'ultima notizia sono le 7.57 andiamo a scoprire il palinsesto della nostra emittente per quanto riguarda questo fine settimana la replica alle 11 di insieme a Canestro che potete rivedere poi alle 20.45 e domani alle 9.30 alle 14 prima di tuffarvi appunto alla Vitrifrigo Arena per assistere al match contro Brescia la natura della cultura magazine riassunto della settimana a mezzogiorno e poi alle 19 e domani di un contenitore dedicato a Pesaro capitale italiana della cultura 2024 che va in onda tutti lunedì mercoledì e venerdì l'inaugurazione dell'auditorium scavolini ve la riproponiamo questo pomeriggio alle 16.30 e poi domani sera alle 21.20 e chiudiamo con il Rossini News Week le notizie della settimana questa sera alle 19.30 poi alle 23.30 e domani nelle 3 repliche con gli orari che vedete in sovra impressioni era questa l'ultima notizia vi lasciamo alle previsioni meteo che abbiamo già visto all'inizio ma che potete appunto rivedere per chi se le fosse perse non mi resta che augurarvi un bellissimo fine settimana l'appuntamento con l'informazione è rimandato a lunedì mattina alle 7.20 quando vi terrà compagnia il collega Antonio Astuti buon fine settimana a tutti e non cambiate canale